Salve, mi chiamo Michela, ho 34 anni e chiamo da Viareggio in Toscana. Faccio questo video per ringraziare lo chef e il videocorso che ho comprato e che mi ha permesso di imparare tantissime cose che non sapevo. Io ho aperto un bar pasticceria l'anno scorso, ad ottobre, il 27 precisamente, e l'ho aperto insieme a mio zio e la moglie. Mio zio era il pasticcere. Con il tempo ci sono stati dei problemi, insomma ho avuto anche dei problemi di salute, o che lui ha dovuto lasciare. Io praticamente mi sono trovata da sola in un lavoratorio, in un lavoro che comunque io avevo esperienza in cucina, ma non in pasticceria. Diciamo che mettevo un po' le mani in pasto, ma niente di che. E in una pasticceria invece serve esperienza. Non mi potevo permettere di assumere del personale, perché nel periodo in cui ho aperto era impossibile, visto che poi dopo eravamo in zona rossa e zona arancione, quindi mi sono buttata nel provare, riprovare, riprovare, fino a che non riusciva a fare quello che mi interessava. Ovviamente con gli occhi di quello che io avevo visto fare a mio zio. Poi un giorno spulciando su Facebook ho trovato questo corso, ho deciso di scaricare le prime due video lezioni gratis, per vedere in realtà se poteva essere buono o meno per me. Dopo aver visto le prime due lezioni e come spiegava lo chef, ho deciso di comprarlo. E devo dire che ho già provato un sacco dei suoi prodotti e sono riusciti. Quindi lo ringrazio e vi consiglio di acquistarlo, o quantomeno di provarlo, perché è veramente risolutivo, potrebbe essere risolutivo per tante persone che magari si trovano nella mia stessa condizione. Grazie.